ciao a tutti oggi prepareremo gli occhi di bue al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa ingredienti sono zucchero farina di tipo doppio zero farina di pistacchi burro uova vanillina lievito per dolci vanigliato scorza di limone o pasta di limone sale e per farcire crema di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il borro l'uovo il tuorlo la farina la farina di pistacchi la vanillina il sale la pasta di limone e il lievito e razionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno riporre in frigo per 10 minuti prima di ritagliare i biscotti trascorso il tempo adesso formeremo i biscotti con una formina a forma rotonda formare la base del biscotto e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno formare la parte superiore del biscotto e ritagliare l'interno formando il foro e proseguire così per tutto il resto del composto cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa i biscotti sono cotti lasciare raffreddare completamente prima di farcire e servire pochi di bue al pistacchio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti